benvenuti a questo nuovo appuntamento ed analisi sui mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studi del sito fta online.com andiamo a guardare come si è aperta settimana le contrattazioni sugli indici uso sono ovviamente ancora in corso ma abbiamo visto una flessione per quello che riguarda l'andamento dei principali indici americani questo è il grafico dell'S&P 500 si nota come l'indice abbia cercato in avvio di seduta di superare i massimi di venerdì senza riuscirci c'è questa resistenza di N4600 che sta calmirando il rialzo praticamente coincide con i massimi di luglio era da tempo che disegnavamo un quadro dove ipotizzavamo il ritorno sui massimi precedenti però avvertendo che il raggiungimento di quella quota è un appuntamento importante c'è infatti il rischio che il rialzo che abbiamo visto da minimi di ottobre sia solo la fase intermedia di un elemento correttivo più complesso quindi l'onda B se vogliamo di un movimento che appunto è iniziato con i massimi di luglio a sua volta i massimi di luglio anzi a loro volta i massimi di luglio si sono fermati senza che venisse raggiunto il massimo d'inizio del 2021 vedete la linea contro la quale si sono fermati è la parte alta del canale crescente che abbiamo disegnato dai minimi di ottobre lo scorso anno la linea di base parte dal minimo di ottobre transita poi dal minimo di marzo di quest'anno la parallela l'abbiamo fatta partire dai massimi di dicembre e questa linea parallela appunto ha intercettato il massimo di luglio dalla quale si è vista questa fase di ripiegamento se i prezzi devono riuscire a stabilizzarsi al di sopra di area 4.600 sarebbe probabile il raggiungimento di area 4.800 in caso contrario c'è invece il rischio di una nuova fase discendente che potrebbe a questo punto andare ad interessare la trend line che parte dai minimi di ottobre lo scorso anno aggiustata per passare poi per quelli di ottobre di quest'anno e che transita intorno ai 4.200 punti pertanto quest'area 4.600 è molto importante perché dal suo superamento o meno si capirà quello che potrebbe essere il destino del mercato questo è il grafico invece del Nasdaq 100 in questo caso abbiamo visto che i massimi che sono stati toccati nelle ultime sedute del mese di novembre sono leggermente superiori a quelli toccati sempre nel mese di luglio però anche in questo caso si vede come al superamento della resistenza data dal massimo di luglio in area 15.9.50 non ci sia stata poi in realtà un'accelerazione anzi nella seduta del 29 novembre è comparsa questa candela asciutta in star che è un elemento che come vedete qui ne avevo evidenziato un'altra il primo di settembre è un elemento che quando compare può indicare l'inizio di una fase di ripiegamento così come era accaduto anche il 19 di luglio è prematuro parlare di ribassi però se dovessimo ridiscendere di sotto di area 15.6.30 15.6.35 effettivamente il rischio di una correzione più estesa diventerebbe molto concreto da notare che anche nel caso del Nasdaq 100 così come per la S&P 500 non è stato superato il massimo precedente che è quello di novembre del 2021 quindi sopra 16.7.50 si potrebbe ipotizzare ovviamente che il rialzo partito dai minimi di inizio di quest'anno è destinato a durare in caso contrario anche qui c'è il rischio almeno di un test di questa trendline che parte dai minimi di gennaio ed è stata poi aggiustata per passare per quelli di ottobre in transito più o meno coincidente con la media mobile esponenziale a 200 giorni intorno ai 14.530 punti se andiamo a guardare l'euro-dollaro che ci dà una sempre idea del sentiment che i mercati hanno nei confronti delle borse vediamo che c'è questa fase di storno quindi il rafforzamento del dollaro che va di pari passo con la discesa del mercato azionario per adesso nulla di particolarmente preoccupante diciamo che se dovessimo scendere di sotto di area 1.08 questa fase di ripiegamento potrebbe invece diventare più estesa se poi dovessimo realizzare o vedere la discesa anche di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni che passa a 1.07 e 70 allora si potrebbe iniziare a dire o a temere che l'imbalzo dei minimi di ottobre sia stato solo un fenomeno temporaneo e che i prezzi adesso rischino di riprendere a scendere con obiettivi anche al di sotto dei minimi di ottobre ovviamente uno scenario di questo tipo vorrebbe dire una fase difficile per il mercato azionario chi si muove in una situazione a direzione completamente diversa invece è il bitcoin che oggi ha accelerato ulteriormente il rialzo per adesso però vedete i massimi odierni che sono stati toccati intorno ai 42.150 punti sono sul 50% di ritracciamento della discesa dai massimi di novembre del 2021 anche in questo caso quindi il rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di novembre lo scorso anno si è trovato a confronto di una forte resistenza se ci sarà la rotura di area 42.5 ovviamente diventerà possibile ipotizzare il prossimamente del rialzo verso il 61.8% di retracement quindi verso area 48.6.50 in caso contrario come spesso accade quando i prezzi si limitano a ritracciare il 50% di un movimento aumenta poi il rischio che la fase successiva sia nella stessa direzione del movimento che era stato ritracciato quindi in questo caso al ribasso a questo punto diamo un'occhiata anche agli indici europei iniziamo con il nostro Fuzzimib lo troviamo arroccato praticamente ancora su questi massimi che sono i massimi di agosto il movimento che ha portato al raggiungimento di quei massimi è stato ben strutturato c'è però da dire che la rottura della resistenza di area 29.7.50 non è stata seguita da una vera e propria accelerazione oggi siamo ancora al di sopra formalmente del livello di resistenza appunto 29.7.50 la chiusura a un paio di centinaia di punti più in alto ma appunto è mancata questa accelerazione che darebbe diciamo maggiore credibilità al superamento della resistenza e alla prospettiva di assistere al proseguimento e rialzo la fase che ha preceduto questo diciamo questo movimento che ha portato poi alla rottura della resistenza è una fase laterale di 2500 punti di ampiezza circa quindi se dovessimo vedere il superamento di area 29.7.50 in modo convincente il target sarebbe almeno intorno ai 31.500 punti in ultimo diamo un'occhiata anche all'indice tedesco indice DAX anche lui come vedete da tutto praticamente dall'inizio del mese di novembre una forte accelerazione rialzista però non è riuscito per il momento ancora ad avvicinare i massimi di fine luglio in area 16.5.40 se ci sarà la rottura di quei livelli avremo un indizio chiarificatore in favore del proseguimento della fase ascendente se i prezzi non riusciranno invece a lasciarsi alle spalle i precedenti massimi ci sarà il rischio di dover considerare come probabile una fase di ripiegamento che potrebbe andare ad interessare la base di questo canale che sto disegnando e che transita intorno ai 14.930-940 punti sopra area 16.5 invece diventerebbe possibile un test da parte alta del canale intorno a 17.7.50 vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo come sempre se il video vi è piaciuto di lasciare un like sapete che youtube funziona anche grazie a queste dinamiche la registrazione al canale e il like al video ci permettono di essere più visibili e di proporvi quindi contenuti sempre più interessanti e speriamo che siano anche appunto apprezzati vi ringrazio l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo contenuto video